Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Bigiotto, oggi parleremo del Milan e del possibile acquisto di Yankto il Milan tra Fofanai e Yankto ha scelto Yankto, io questa cosa che ha scelto il Milan non l'accetto molto perché a me piace di più Fofanai, sia per il fisco che per il carattere, anche per il tiro, a me piace di più Fofanai secondo me è una mezzalla più completa di Yankto, però quindi il Milan ha scelto di puntare tutto su Yankto, allora l'operazione l'operazione dovrebbe essere il prestito di Locatelli all'Udinese che 10 milioni di toglierebbe in poche parole a Yankto e poi pagare magari, cioè dare in prestito Locatelli e prendersi o Yankto definitivamente con un prezzo più basso oppure prenderlo in prestito fino alla fine, quindi uno scambio di prestiti in poche parole perché all'Inter piace molto Locatelli e lo vorrebbe al Milan appunto piaceva molto Yankto e lo vorrebbe allora, al Milan servono mezzalla, io ovviamente avrei preferito Baseli che è il più forte Baseli ovviamente l'ha blindato il Torino poi si parlava di Rafinha, Rafinha, cioè è impossibile perché costa un po' troppo poi si parlava di un centrocampista dell'Arsenal, Wiltshire tipo e poi ovviamente non se ne è parlato più e di Fufanasi parlava che dicevano che c'erano già i contatti c'era il sì del giocatore, ovviamente non era vero ora si parla di Yankto, questa volta è vero quindi io dico il Milan come fa a pensare di comprare Yankto senza soldi cioè io dico, l'Udinese vuole Locatelli, no? in prestito se tu dai Locatelli in prestito, e quali ti danno in prestito? Yankto, vabbè, hai fatto un buon affare ma se tu devi dare Locatelli in prestito più pagare 15 milioni è un buon affare, a voglia è un affarone però, secondo te, tu con che soldi paghi 15 milioni? che stai ancora in debito con Elliot? cioè, come paghi? quindi, raga, è impossibile l'unica cosa che ci può essere è uno scambio di prestiti o magari un parametro zero, ma è impossibile non te lo darà mai a zero Yankto, l'Udinese ma è una cosa ovvia quindi l'unico modo è uno scambio di prestiti che ci potrebbe stare uno scambio di prestiti sarebbe un colpaccio per noi per l'Udinese, non lo so, dipende da cosa vuole Oddo se lo vuole Oddo e Oddo non vuole più Yankto sarà buono anche per loro quindi è l'unica cosa sarebbe veramente un gran colpo fare uno scambio di prestiti del genere quindi, questo video termina qui spero che vi sia piaciuto se questo vi è piaciuto, iscrivetevi arriviamo a 5 like e noi ci vediamo alla prossima ciao